buongiorno buongiorno a tutti oggi a parlarvi della riunione che è seduta ieri da ccsa allora hanno approvato l'estensione da 30 45 giorni e questo è l'ultimo anno approvata da loro quindi è sicura al mire per mire hanno approvato l'eliminazione di tutte le restrizioni hanno approvato l'eliminazione dello stato di emergenza a causa corno e hanno provato anche lo scioglimento dello stesso ccsa perché visto che il covido ormai è classificato con una normale influenza loro non hanno più bisogno di esistere non devono valutare più niente tutti gli ordini dati finora decadono quindi le restrizioni non ci sono più il 30 di settembre passerà alla storia appunto per questo motivo perché decale tutto quindi dal primo di ottobre si potrà entrare in thailandia senza più bisogno di niente niente più tamponi niente più se risultarsi positivo qua con sintomi senza sintomi o sintomi leggeri loro ti consigliano di mettere la mascherina e di riguardarti per cinque giorni se hai sintomi gravi naturalmente vai all'ospedale però ecco il discorso della mascherina non è più obbligatorio anche se loro la raccomandano lo stesso se sei nei posti affollati però ecco non c'è più obbligo e questa è una bellissima notizia perché finalmente si potrà venire in thailandia senza più nessuna paura senza nessuna ansia non ci sono più tamponi non c'è più niente di niente abbiamo messo le spalle in questi ultimi anni di restrizioni e di paure cerchiamo di buttarci sulle spalle guardiamo avanti finalmente se dio vuole è finito tutto ripartiamo da qua io vi saluto vi ringrazio per avermi sopportato fino adesso con le notizie e naturalmente vi aggiornerò comunque su quello che succede che sia politica o gossip vediamo comunque fino adesso siete stati fantastici grazie a tutti bye bye